Dopo tre anni di assenza grazie all'opera dell'economista ed esperto di arte Paolo Turati che ha reperito la location nella prestigiosa e storica sede dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in un periodo perdurante ormai da anni in cui molto purtroppo invece se ne va da questo territorio ritorna il meglio a livello mondiale nel campo del mercato dell'arte moderna e contemporanea. Sentiamo l'intervista all'organizzatore dell'evento. Paolo Turati, Cristi, si torna a Torino per la seconda volta, un ottimo risultato. Dopo vari anni di mancanza siamo riusciti effettivamente a ottenere questo risultato, far rientrare a Torino la più grande casa d'asta del mondo. Ho avuto il piacere di contribuire a questa riuscita grazie anche alla collaborazione dell'Accademia Albertina, del suo direttore Guido Curto e del suo presidente Marco Albera. Sono esposti in questo caso gran parte dei lotti principali che verranno battuti in Asta Milano il 24 maggio. pezzi importantissimi che superano anche i 3 milioni di euro, da Fontana a Capogrossi a De Chirico. Ecco, grandi pezzi, quindi Torino nel centro della cultura. Torino si conferma sempre più, quindi, capitale dell'arte contemporanea? Lo è, certamente. Da un punto di vista di collezionisti, Torino rappresenta circa il 60% della quantità dei beni artistici moderni e contemporanei italiani. Con questa operazione ho cercato di contribuire anch'io a creare un'internazionalità con Torino e con Cristis.